questo è un video per gamer nonostante non si dovrebbero dire no questo è un video per castizzare una cosa però questo effettivamente è un video per gamer la vita straordinaria di Ibele non è una recensione non troverete capitoli non troverete introduzione non troverete il giudizio personale troverete semplicemente delle considerazioni su di me su il prodotto che ho visto su quello che penso partiamo dal fatto che ed è un fatto io sono un gamer di vecchia data molto vecchia data gioco online prima di giocare online ero già un gamer gioco online dal 1998 sono partito con degli amici di roma a giocare a ultimo online la meraviglia o la magia è durata proprio finché non uscì world of warcraft che svuotò buona parte dei server io subito non ci andai passai a game bound dove trovai un amico poi a cabal dove no poi a tale of piret scusate poi a cabal dove ne trovai un altro e da lì via 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 ho chiuso qualche mese fa con lo stark voi direte chi se ne frega avreste anche un po ragione ma questo perché perché ve lo dico ve lo dico perché quando ho smesso con lo stark sentivo un senso di pesantezza non riuscivo bene a mettere a fuoco a capire il significato dell'abbandonare tutto quel tempo di gioco del buttare via il tempo con gli amici ero un po confuso ero un po stanco stanco di non sapere perché facevo tutto questo tutto questo farmale tutto questo impegno nei dungeon negli appuntamenti settimanali per fallire con l'unico intento di riuscire disinteressandosi poi no in prevalenza dei rapporti interpersonali con la foga e la mania del drop del set dell'evento che uscirà del dell'elisir che devi oppare insomma non riuscivo bene a capire poi ho visto il trailer pensate della straordinaria della vita straordinaria di ibel in un giocatore di world niente più e niente meno che un giocatore un gamer norvegese di nome metz steen morto a causa di una malattia muscolare degenerativa solo 25 anni ed era un enorme appassionato di world of world scusate a cui dedicava moltissime ore al giorno in un personaggio nelle vesti di un personaggio che appunto si chiamava ibelin faceva parte di una gida starlight mi pare che si chiamasse ora non prendete proprio come si starlight credo si chiamasse stare ma non è questo il punto in sostanza questo ragazzo è chiaramente morto nel 2014 perché questa malattia degenerativa bloccava non solo i muscoli ma anche gli organi e quindi a un certo punto si è addormentato e non si è svegliato più quindi durante questi 106 minuti di un documentario che parla di un gamer quello che potete fare se siete gamer interessati al prodotto perché dovreste essere potete guardare chiaro che lo possono guardare tutti ma un gamer avrà quel senso quel sapore di antico quel concetto un po come dire di riflessivo che dovrebbe appunto fare capire a molti giocatori perché passano così tanto tempo online perché in fin dei conti ci viene narrata la storia di mezza attraverso ibelin con ricostruzioni di world of warcraft un gioco al quale non ho mai giocato che non ho mai apprezzato ma quello che ci viene mostrato è la strabiliante capacità di questo ragazzo di costruire rapporti interpersonali non pensiate che ora mi metterò qui a dire poverino no non ha questo senso il mio video il mio video al senso di far capire perché dovremmo giocare dovremmo seguire l'esempio di maz che effettivamente nonostante tutte le problematiche che ha riscontrato e sono ben palesi nel documentario basta che lo guardiate per rendervene conto senza che io decanti tutta la tristezza che ha dovuto provare lungo il tragitto se lui è riuscito a stare online con spensieratezza e trovando la forza di costruire rapporti interpersonali buona parte di noi noi afflitti dal drop afflitti dal dal farming afflitti dal dungeon alle ore e non c'è tizio e non c'è caio e il pezzo lo prendi tu e il pezzo lo prendo io a chi tocca questa settimana dovremmo forse fare un passo indietro e anche le stesse case produttrici dovrebbero fare un passo indietro e capire che lo scopo del gioco dovrebbe essere giocare un concetto molto molto retro ormai non nessuno gioca più per giocare si gioca per raggiungere l'elite l'elite attraverso influencer che ci fanno credere che l'elite sia fare una cosa in 40 secondi o anziché in 30 o in 15 o con un colpo one shotiamo l'universo però in fin dei conti noi non cominciamo a giocare per questo so che sono pesante però cominciamo a giocare per la compagnia eravamo un po no una sorta di persone emarginate dal mondo perché non giocavamo a bigliardo non giocavamo a carte non giocavamo a pallone giocavamo ai videogiochi quando la cosa andò online il mondo acquisì un profumo particolare la consapevolezza che esisteva un mondo segreto dove postavamo essere qualcun altro o semplicemente noi stessi questo è lo scopo che viene ben spiegato attraverso quella che poi è la vita di matt steen e attraverso il suo personaggio ibelin viene spiegato con vivida fermezza che si può perseguire ogni sorta di sentimento perché se lo ha fatto lui con tutti i limiti che ha riscontrato con tutte le fatiche alle quali ha dovuto andare incontro con le paure che ha dovuto affrontare noi dovremmo giocare con una spensieratezza che forse appantiene solo ai bambini cosa che invece non facciamo quindi la vita straordinaria di iberi non è solo una vita straordinaria che ci spiega come un ragazzo un bambino un adolescente un giovane adulto abbia affrontato delle prove sicuramente più grandi di noi e probabilmente più grandi di lui ma dovrebbe spiegare oltre quello che ha fatto scusate c'è un po di rumore in casa dovrebbe spiegare oltre quello che ha fatto dovrebbe farci capire probabilmente quello che dovremmo fare noi so che è utopico il concetto nessuno capirà assolutamente nulla lo guarderanno in molti e penseranno dio com'è pesante o dio com'è brutta questa scena non capendo una benemerita sega di quale dovrebbe poi essere il concetto prevalente scusate in casa vi ridico c'è rumore il concetto prevalente di quello che poi è il significato del gioco ovvero noi giochiamo per giocare questo dovrebbe essere il senso che viene tramandato da questo documentario sulla vita straordinaria di iberi che va a raccontarci le avventure di matt steen e del suo alter ego iberi quindi il sunto di quello che dovremmo comprendere almeno di quello che io ho capito è che innanzitutto siamo dei privilegiati e dovremmo buona parte di noi lo sono non dovremmo mai giudicare gli altri mentre giochiamo non dovremmo preoccuparci del perché qualcuno non riesce a fare una skill in quel momento magari facendo sbagliare il party perché sono molteplici le cause che potrebbero portare a questo e non dovremmo essere noi a giudicare o soprattutto a prestare l'attenzione solo su quello perché non è importante se si fallisce in questi dungeon che diventano sempre più complessi sempre più infiniti sempre più duri lost ark alla fine era diventato una prigione dovremmo domandarci quanti rapporti interpersonali abbiamo costruito se ha senso costruirne altri se ha senso andare avanti e io onestamente ho mollato questo mondo all'incirca quattro mesi fa cinque mesi fa e non penso di tornare mai più perché ormai ero veramente gonfio di tutta quella quella nociva quantità di individui nocivi che giravano in quel mondo senza il minimo costrutto con l'unico intento di pavoneggiarsi effettivamente non mi andava più bene quindi io vi suggerirei ma è un vostro vostro insomma è una vostra scelta vi suggerirei di guardare senza ombra di dubbio se siete gamer la vita straordinaria di ibeli magari se siete gamer accaniti cercando anche di capire qualcosa sul senso di una pellicola che dovrebbe far capire più di una cosa e sul senso magari del tempo che impiegate all'interno dei videogiochi so benissimo che questo non accadrà ma onestamente devo essere anche onesto non che me ne freghi più di tanto cioè sono in fin dei conti più problemi vostri che miei però quello che vi posso dire con estrema schiettezza è che sicuramente prestiamo molta attenzione all'arrivo ma quello che conta non è solo l'arrivo e la partenza ma il viaggio e quanto ce lo godiamo non so cosa penserete di questo video onestamente non è molto importante perché attraverso la vita straordinaria di ibeli un prodotto che mi sento di suggerire a tutti ma in particolar modo ai gamer forse qualcuno fosse anche un 1% riuscirà a capire qualcosa e da domani almeno per un 1% avremo un mondo dei videogiochi sicuramente migliore vi ringrazio e vi saluto un ciao dai mi